Luca Caponelli Revisore Due problemi fondamentali che chi nasce deve risolvere, due soluzioni che si trovano su piani diversi, ma che sono parimenti utili e necessari in quanto fondativi della vita, in quanto alla base della nostra stessa esistenza. Un piano è quello del mondo visibile, che pur c'è, che pone le sue condizioni. Darwin chiama il mondo delle specie. Quando le persone hanno bisogni primari, insoddisfatti, diventano bestie. Immaginate quelle che bestie già lo sono. Ma le bestie umane sono più feroci perché sono più organizzate, perché sono più distruttive. e infatti la collera degli esseri umani è più devastante di quella degli animali. Il problema di questa società post-moderna, alcuni dicono post-cristiana, ma io direi post-religiosa che è più preciso, questa identificazione con le cose del mondo cosificato e il cosificarci, il cosificarsi con esse, porta a un appiattimento di tutte le speranze, di tutti i sogni, di quel che sembra il sale della vita. la conflittualità crescente a tutti i livelli, anche a livello familiare. E non starò a farvi perdere tempo a pensare al femminicidio, che è una delle rappresentazioni, delle manifestazioni, forse più visibili, più clamorose, ma una costellazione di violenze, di disattenzioni, che ha investito ormai in maniera devastante anche la scuola. Episodi di bullismo sono all'ordine del giorno, di prevaricazione, di disinteresse per l'altro. Potrei andare avanti ancora molto, ma è di stamani la notizia che l'America si è tirata fuori dal patto di non proliferazione delle armi atomiche. È qualcosa di disastroso, ma le persone con i tanti lividi psicologici che hanno, con le tante criticità irrisolte, magari non hanno neanche ascoltato, oppure non hanno dato il giusto peso di drammaticità a questa breve notizia che è stata trattata alla stregua di altre che attengono il mondo della superfluità. Beh, solo per dire che la conflittualità è talmente elevata, talmente alta, che se qualcuno o qualche scienziato sociale, qualche scienziato del sociale, si mettesse di impegno a fare un computo, probabilmente sarebbe probabile che la spesa potesse arrivare fino al 50% del PIL. La spesa della conflittualità. dentro c'è la corruzione, dentro c'è il crimine organizzato, dentro ci sono quei malandrini che invece di fare il loro lavoro giocano con i buchi che ci sono negli ordinamenti e così via. Beh, il problema si fa sentire a livello della prima struttura sociale che è la famiglia e che dovremmo proteggere con tutte le forze. Poi vedremo che in Sanskrit ci sono più significati di famiglia, ci sono più famiglie, ci sono vari livelli, vari ordini di famiglie. Ma questo per dirvi che l'essere umano è un essere sociale, ma io non invento nulla, non vi sto dicendo qualcosa di nuovo. Quando lo chiesero Aristotele disse che ero un animale sociale all'uomo. l'essere umano è più che incline direi strutturato per essere sociale. Bene, oggi come nel novecento durante la fondazione dei due grandi stati totalitari, oggi sta riemergendo quella stessa tendenza della persona isolata, dell'uomo massa, della donna massa, con criteri rappresentativi differenti, quindi con figure differenti, con nomi differenti, ma il fenomeno è molto preoccupante. Le persone diventano come monadi, direbbe Leibniz, come cellule isolate, a volte anche da uno smartphone, dalle cuffie, da qualcosa che consente a loro di attraversare i binari del treno e venire spazzati via in quel modo così veramente poco decoroso. Le droghe che stanno dilagando in maniera invasiva e tutto quel che comporta la loro proliferazione, quanta gente improduttiva è sulle spalle di altri e quanto costerà la sanità fra cinque anni, dieci anni, vent'anni, cinquant'anni. Ce la faranno quelli che ce l'hanno un po' meno dissestata a mantenere tutti gli altri che non sono più in grado di mantenersi. Beh, vi ho richiamato un po' a questo panorama grigio, terrificante che si prospetta per il futuro, per darvi un'opportunità, per lanciarvi un'opzione, per dirvi che c'è speranza. E non vi dico che è l'unica speranza, non vendo dogmi, non sono uno spacciatore di dogmi, vi do un'opportunità, questa opportunità ciascuno di voi è libero di prenderla o non prenderla, fate voi, io vi do questa opportunità. lo yoga. Lo yoga è apolitico, è religioso, non necessita di una presa di posizione con un impegno vita natural durante, a meno che poi la persona non si innamori così perdutamente del percorso evolutivo che sta facendo che lo desideri, perché dedicarsi a uno scopo nobile, elevato, ispirante e ispiratore per altri, beh, è una scelta anche quella. Uno si potrà dedicare alla felicità, visto che c'è la stragrande maggioranza che si dedica esattamente al contrario. Allora, a fronte della conflittualità, della competitività spinta all'eccesso, proprio tutti i coachers, tutti coloro che si occupano di ottimizzazione dei tempi e della produzione, pensate allo sfortunato Giappone dove lavorare implica una percentuale altissima di burnout, di sindrome da stanchezza cronica, da alienazione, dico Giappone, ma sono in molti ad avere preso quella strada. E chi vi parla è un cultore dell'organizzazione, della produttività, perché dà gioia, ma attenzione, occorre che non sia nevrotica, occorre che non sia lesiva della personalità. Yoga, ancora. Una ventina di anni fa, scrissi un libro, Psicologia delle leadership del benessere. Questo del benessere è fondamentale, perché leadership ce ne sono tante, e ci sono anche supervalutati leader, ma non portano al benessere, portano al malessere. Per essere leader del benessere si deve di nuovo considerare meglio che cosa significa yoga. Yoga nelle carceri, yoga nelle parti di oncologia per sei anni con autorizzazione e certificazione del Ministero della Salute. Ho portato questa psicologia dell'assistenza ai malati terminali e ai loro familiari. Yoga. Era proprio un programma yoga. È un programma yoga. Così le carceri, così gli asili, così... Lo yoga nelle scuole, ma che cosa significa yoga? Yoga significa congiungersi. E il problema dell'uomo moderno, donna moderna, uomo moderno, degli umani moderni, è proprio la distrazione, è proprio il problema opposto, il problema contrario. Qual è il problema? Come definirebbe lei il problema dell'uomo moderno? Con poche parole perché deve attrarre la prima riga, poi il resto, se le persone sono interessate, leggono anche una pagina intera, ma la prima riga è essenziale e che non sono più contestualizzate nell'universo, non riescono più a trovare il loro posto nell'universo. Le persone non sanno cosa stanno a fare al mondo, tranne qualche episodio sporadico di vera gioia, molto sporadico, il resto è piacere, ma il piacere poi è alla base dei dispiaceri. Questo andrebbe spiegato meglio se ci sarà un po' di tempo, lo faccio volentieri. In sanscrito nella Gita si dice coloro che sono risvegliati, illuminati, Buddha stanno molto alla larga da quei cosiddetti piaceri che in realtà sono la fonte di tutte le nostre angostie. pensate alla carriera, pensate al problema dei giovani per trovare un lavoro, pensate al disoccupato con famiglia, pensate al cassa integrato che guarda continuamente il calendario perché vedi che si avvicina la data di schiedenza del periodo integrativo, eccetera, eccetera. Pensate a una persona terminale, terminale si fa per dire, siamo tutti terminali se ci pensate bene, i terminali con diagnosi di aspettativa di vita magari 90 giorni. Ecco, noi siamo ossessionati, soprattutto l'Occidente, ma ormai l'Occidente ha occidentalizzato il mondo, quindi si può dire proprio che 6 miliardi di persone sono ossessionate da questo problema del tempo, da questo problema della morte, da questo problema di quel volo, di quel salto, di quel precipizio nell'ignoto di cui si perde completamente coscienza e anche il senno perché è terrorizzante vista così la vita, a scadenza come un prodotto che si conserva male e quindi va gettato al momento, alla data di scadenza. Ecco, la vita non è così, nello yoga non è così. Non si può parlare di yoga entrando nei dettagli, ma si deve parlare prima di tutto della visione della vita che dà lo yoga, della visione del mondo che dà lo yoga. Che prospettiva ci dà lo yoga? Dell'eternità. non è yoga diversamente. Diversamente potete scriverci palestra, ginnica, potete scrivere quello che volete, atelier, potete fare quello che volete. Che volete? Ma se volete parlare di yoga voi dovete scoprire come prima istanza la vostra natura di eternità perché questo è il primo grande successo della vita. Più di tutti gli altri successi che le persone inseguono con grande ansietà salvo poi scoprire che non gli risolve il problema della vita. la eternità è la nostra natura, non abbiamo da comprarla su internet, non abbiamo da fare chissà che cosa per scoprire la nostra natura d'eternità, ma noi dobbiamo collegarci con la radice Yuj, da cui viene anche Giogo in italiano che è il collegamento, essere collegati, Yukta, il participio passato di yoga. e questo avviene nel momento in cui noi riguadagniamo la nostra centratura perché al momento attuale le persone vivono in uno stato alienato e non ho nessuna intenzione di offendere chi che sia, non vi è alcuna prospettiva per intristire le persone, ma di fatto qualcuno lo dovrà dire che l'alienazione domina la nostra società. La nostra società, ma io intendo a livello globale, normalizzato, globalizzato, mondializzato, omologato, abbiamo appiattito una corsa fuori da noi stessi. Questa corsa fuori da noi stessi è la causa di tutte le ulteriori disgrazie che incontriamo e che contribuiamo a produrre. Yoga, Yukta, collegato con chi? Con me stesso. Con me stesso, con Dio. Oggi sembra obsoleto questo termine, sembra che se ne debba parlare solo di nascosto e sottovoce, quasi vergognandosi. ma il punto è che se noi non scopriamo la nostra matrice, e questo è il punto, scoprire la nostra matrice, collegarci alla nostra matrice, all'anima delle nostre anime, alla sorgente, alla luce primigenia che dà a noi la luce, quella illuminazione, quella capacità di vedere, quella capacità di percepire, quella capacità di intuire che è già al di là del linguaggio logico razionale, perché l'intuizione appartiene a un altro quid, un quid spirituale, che noi non dobbiamo vederlo come altro da noi, è la nostra identità quella, semmai dovremmo vedere tutto quel lavorio pesante di deduzione e induzione come qualcosa che ci obbliga a lavorare perché consideriamo come reale, come esistente solo ciò che si vede, ma è ciò che non si vede che ha molto più valore. Se noi parliamo a ciò che si vede, non vediamo il nostro interlocutore, vediamo la sua apparenza, magari il suo vestito, il colore dei suoi capelli, vediamo più o meno la devastazione che ha subito la sua vita in alcuni casi, in certi casi di grave patologia, a volte anche alle inezioni mentali, ormai il livello clinico. Possiamo vedere all'esterno, ma noi non conosciamo le persone all'esterno. Dall'esterno abbiamo una visione degli occhi, noi dobbiamo passare dalla visione degli occhi alla visione dell'anima, alla visione spirituale. Quella visione spirituale si deve fare un contatto non tanto con la persona fisica che abbiamo come interlocutore, ma con chi c'è dentro a quella figura fisica. È quella persona che necessita di gioia, di amore, di amicizia, di solidarietà, perché no? Di compassione, di misericordia. Ecco, questo è yoga. Yoga è dare alle persone prima la capacità di collegarsi a se stesse, ed è la più grande scoperta che la persona fa in vita. È più che la scoperta di un continente, di un nuovo pianeta, di un nuovo satellite, di un vecchio pianeta, è più di un altro elemento della scala mendeleiana, è molto di più scoprire se stessi. Perché cominciano una nuova vita, o vita nuova, come dice Dante nel suo primo scritto. Vita nuova. Quella è vita nuova. Aver scoperto se stessi, l'esistenza di se stessi. Perché chi vive alienato è condizionato dalle false credenze e non riesce a entrare in contatto con se stesso. Quindi può provare piacere, ma non gioia essenziale che dire felicità. O la beatitudo di cui parlava Agostino, o di cui parlava Tommaso d'Aquino, o Bernardo da Chiaravalle, o Alberto Magno da Colone. Cioè anche nella scolastica erano dati conosciuti. Ma non è frutto di una mistica da reclusi. Sì, si può fare anche reclusi. Ognuno deve sentirsi libero dalla sua dimora interiore per poter fare le scelte che più lo appagano, che più lo ispirano, che più lo fanno sognare e soprattutto più lo rendono appagato, soddisfatto e trasformare in realtà quel sogno di felicità che ognuno di noi coltiva nel cuore. La vita è un viaggio. Il mezzo è la conoscenza. La meta è l'amore. L'amore io propongo di scriverlo con la maiuscola proprio per non mischiarlo e non confonderlo con gli amorucci, con quelli che durano meno di una stagione e che lasciano tanta tristezza nel cuore. Quell'amore non è privilegio dei bianchi o dei neri, dei rossi o dei bruni o di quelli del nord o del sud del mondo o di quelli dell'est o dell'ovest. Ognuno di noi ha una fiamma nel cuore e quella fiamma è l'amore. Sta a noi farla divampare o farla quasi scomparire. Non si riesce a farla scomparire perché la fiamma dell'amore è un bene ontologico. Quindi appartiene al piano metafisico. Non è il corpo fisico o empirico dell'esperienza empirica. È una visione. Ecco perché la visione dello yoga sta a monte di tutto. La visione dello yoga, quello che ci consente di entrare in comunione. Vedete, anche nella grande civiltà cristiana c'è questo concetto di comunione. E attraverso la comunione la liberazione. Moksha in sanscrito. Mukta, il liberato. Jivan Mukta, liberato in vita. Quindi non un bene che lo riscuoterai quando non sarai più in questo concetto. No, un bene che puoi riscuotere vita natural durante. Anzi, prima si riscuote, prima si incassa, meglio è. Prima si acquisisce, meglio è. Perché? Perché possiamo condividerlo con quante più persone possiamo. E un bene così grande non lo si consuma. Non è eroso, non è rubato dai ladri. Un bene così lo si moltiplica donandolo, condividendolo. L'amore lo si moltiplica condividendolo. L'amicizia condividendola. Certo, c'è da fare la pratica di quelle 26 qualità su cui ho scritto un libro, ma soprattutto ascoltatevi i seminari, ascoltatevi gli audio che sono molto più efficaci di quei segnetti neri convenzionali su carta bianca. Perché l'ascolto porta ad altre vette. Quindi quelle 26 qualità che possiamo chiamare le virtù di una persona che desidera evolvere. E evolvere non significa fare una fuga da soli. Bisogna entrare nelle scuole, bisogna entrare nelle caserne, si deve entrare nei ministeri, si deve entrare nelle università. E così è cominciata la nostra avventura. Io tenevo corsi presso l'Università di Siena e quei primi libri trascritti sono diventati i primi nostri testi di studio dell'Accademia. Ed era sempre yoga, che sia il Yoga Sutta di Patanjali, che sia il Sankhya Yoga, il Dhyana Yoga, il Kriya Yoga, la Buddhi Yoga, la Shtanga Yoga, il Bhakti Yoga, che abbiamo visto e così è scritto in tutti i testi, che lo yoga dell'amore è sicuramente il più elevato. ma yoga, collegarci, connetterci, non rimanere sconnessi, non fare una vita trascinata, non portare avanti la vita per dovere, perché uno ha figli, perché uno ha il conico, perché uno ha il padre o la madre anziana, o perché ha preso degli impegni. Questa vita di impegni è una vita faticosa. Gli stessi impegni diventano bellissimi, diventano affascinanti, diventano ispiranti. C'è desiderio di nuovo impegno e di nuovi impegni, ma dobbiamo capire il dativo. A chi do queste energie? Il dativo. E questo a chi lo do? E questa mia vita a chi la do? E questi anni di gioventù, di vigore, di rapida intellettualità, di empatia, di simpatia, di desiderio di comunicare, di stare insieme alle gente, di condividere. A chi le do? Con chi condivido? Cosa faccio? Che me ne fò di questa vita? Qual è l'uso che posso fare di questa vita? Beh, un freudiano vi direbbe, calmati, sei un funzionario della specie. Fai figli, poi quando ne hai fatti abbastanza c'è il reclino, c'è la parte di declino della vita, c'è la parabola discendente, non servi più alla specie, vai in rottamazione. Ecco, è tutto qua? La vita è tutta qua? Beh, c'è chi lo giurerebbe. No, loro non giurano perché non c'è nulla su cui giurare, però ti dicono che tutta una serie di autori, che adesso non sto a farvi nomi perché non vorrei che poi durasse troppo questo intervento, c'è la sopravvivenza della specie, quindi fatti furbo diventa un lupo più lupo degli altri altrimenti non riesce a sopravvivere. E quindi c'è questo nuovo Vangelo, fatti furbo, fatti furbo e quindi sopravvivi di furbizia. Beh, è un massacro, vivere così è un massacro. Mettete voi la differenza tra vivere d'amore, tra vivere di amicizia, tra vivere... Certo, occorrono le leggi, certo, occorrono i magistrati, certo, occorrono i tribunali, occorre tutto. Occorre tutto, ma bisogna vedere l'uso che se ne fa. Se se ne fa un abuso dei tribunali, inceppiamo tutto. Se ne facciamo un abuso di violenza o di prevaricazione o di sfoggio di furbizie, tutto diventa veramente triste. Il quoziente, il quid, il quoziente di fiducia scivola vicino alla quota zero, per cui vedrete tutti armati, vedrete tutti i nemici di tutti. E beh, insomma, un'esperienza abbastanza tenebrosa si è fatta nel Novecento con gli stati totalitari, lo dico di nuovo. Allora, yoga è per diventare felici e condividere la felicità, è per diventare gioiosi e condividere la gioia, è per diventare... Sperimentati dell'eterno, dell'eternità, cioè avere avuto delle esperienze significative di eternità, per poter condividere l'eternità. Andare a incontrare una persona, a me è accaduto in più di un'occasione, un morente, utilizziamo questo termine, no? Un morente e con convinzione, non con fede cieca, sto parlando con una visione e con memorie, offrire una prospettiva di eternità. Ma anche a un giovane che ha finito gli studi e non trova un impiego avvicinarlo con una prospettiva di eternità. Un anziano colto da una nuova invalidità che lo rende incapace di vivere almeno, almeno, almeno una vita dignitosa. Avvertire che questo caleidoscopio dalla nascita alla morte è un rincorrersi di eventi dovuti all'identificazione con il mondo, di cui noi poi non ci ricorderemo più, perché questo percorso l'abbiamo fatto migliaia di volte e ci siamo preparati poco per la tappa successiva. E ho detto che la vita è un viaggio, non un solo viaggio. Questo è un segmento di incarnazione per noi e se facciamo bene in questo segmento di incarnazione, non solo stiamo bene qui, ma stiamo anche causa di tanto benessere per tante persone. Siamo portatori, perché se uno qualcosa non ce l'ha, non lo può dare. Se uno non è gioioso, non può dare la gioia. Se uno non ha visione, non può dare la visione. Se uno non è empatico, se non parla con il cuore e piuttosto parla con la mente calcolatrice, beh, gli effetti sono completamente diversi, molto diversi. Allora, yoga, oltre alle applicazioni pratiche, benvengano, si chiamano scienze applicative dello yoga. Ho desiderato quel nome che si veicolasse lo yoga con le sue scienze, con le sue scienze applicate. Sì, va bene, ma dobbiamo avere la visione del mondo, concepire noi stessi come eterni. I bambini lo capiscono subito perché li avete visti così contenti, perché lo capiscono prima degli adulti. Gli adulti hanno strutturato molti condizionamenti, molte false credenze, molte identificazioni e a causa di quelle identificazioni sono diventate cinici. Gli adulti sono cinici. Prima si pensava alla saggizia delle chiome candide, le bianche piume, le chiama Dante, le bianche piume, questi anziani. Spesso adesso hanno perso il senno, proprio perché la vita condotta non è stata certa di buona qualità. La compassione è per tutti, la tolleranza è per tutti, l'empatia è per tutti. A tutti si deve parlare con il cuore, ma se non parliamo prima a noi stessi è tempo sprecato. Quelle trasformazioni che vogliamo vedere nel mondo, quel benessere, quella gente sorridente, contenta, che porta un contributo perché ognuno è capace, è dotato, ha proprio i cromosomi. Prima si parla di un genio, si parla di geni, no? Ci sono veramente tutte queste possibilità di diventare la migliore versione di noi stessi. Beh, vivere con persone che sono creative, che hanno fiducia e che hanno una visione ampia, un espanso orizzonte di senso, è una vita veramente più felice per ciascuno di noi. Quindi espandere questo benessere, non tenerlo in un cassetto, in una cassaforte o da qualche parte, ma condividerlo, fare queste pratiche e condividerle. Pensate a quelle 26 qualità di cui vi ho parlato prima e prima di me era già stato accennato a questo numero di 26 qualità, queste 26 virtù, la loro pratica non solo è divertente, non solo è energizzante, non solo ci sistema il sistema immunitario, ci rafforza il sistema immunitario, ma anche il sistema immunitario psichico, anche la nostra metà, cioè quella parte sommersa della psiche che è l'inconscio, ha un immenso beneficio da queste pratiche yoga. Poi da qui le persone possono accedere al cristianesimo, al buddismo, se volete, ad altre filosofie, ad altre visioni religiose del mondo, sia ai tre monoteismi medio orientali, sempre in lotta tra loro, o altre forme di metafisica, a quel che si vuole, ma prima fate l'esperienza di voi stessi, scoprite voi stessi. Questo è yoga, scoprire noi stessi. E nella scoperta di noi stessi abbiamo un'esperienza mozzafiato, sentiamo di entrare in contatto con qualcosa che simultaneamente differente e non differente da noi. Acintia, inconcepibile. Beda, abeda, tatua. Tatua è una realtà. Parmenide lo chiamava lente. Un ente che è simultaneamente beda, diverso, e abeda, non diverso da noi. E questo contatto, cioè questo entrare in relazione con questo nostro io superiore, chiamiamolo così, in maniera più pratica, vi moltiplica le forze, la visione, l'accesso alla gioia, alla contentezza di cui più nessuno parla. Ma tu sei contento o non sei contento? Chiedetegli alla leggenda. Più che chiedere alla leggenda di cosa ne pensi, ma tu sei contento o non sei contento? Questa contentezza. La persona ha un attimo di smarrimento perché è un po' che non si fa questa domanda, oppure è la più semplice. Ma tu sei contento o non sei contento? Prima che cominci con quel treno di lamentele, di cose che non vanno, ci hai pensato, non sono contento. Ecco, non sono contento. Ecco, lo volevi sapere? Te lo dico, non sono contento. Hai capito? Non sono contento. Calmati, calmati. Calmati, perché se non sei contento si comincia a darsi una calmata, a capire perché non sei contento. Ecco, da qui c'è proprio un bel approccio al mondo dello yoga. Perché non sei contento? Visto che noi per natura, costituzionalmente, ontologicamente siamo Satchitananda Vigraha, siamo felicità pura, siamo sapienza e siamo eternità e troviamo le persone attestate esattamente all'opposto. Ci sarà qualcosa che non va. Scopriamolo insieme. Grazie per l'attenzione. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi. 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 Grazie.